Quando uno non fa ti dico non fate niente, quando si fa ci hanno da boticare perché si fa, perché si creano disagio, perché i lavori non vengono fatti come uno vorrebbe e quindi abbiamo deciso di comunicare in questo modo qui per magari far sorridere un po' di più e far boticare un pochino di meno. Arriveranno a breve e saranno utilizzati nella nuova lunga stagione di cantieri in città e non solo, sono i nuovi cartelli stradali in Aretino. La maggior parte sono per cantieri stradali o per cantieri edili, l'unico un pochino più limitato come utilizzo è questo qua, si rimbianca per l'ennesima volta visto che ci costa una cignata a tiendere conto. Ovviamente nulla hanno a che fare con il codice della strada o quella normale segnaletica ma vogliono unicamente segnalare con un pizzico di ironia i nuovi cantieri che a breve prenderanno avvio. Abbiamo deciso di stamparli e di metterli nei cantieri anche per stemperare un pochino i rapporti con qualche cittadino un pochino troppo focoso, un po' più caratteristico come siamo noi a Aretino. Ora nei primi cantieri che partiranno settimana prossima saranno lungo le strade e penso che faranno anche sorridere. I prossimi saranno quarata dalla settimana prossima, un cantiere molto importante, quasi 300 mila euro di interventi complessivi, di lavori complessivi, poi via Benedetto Lamagliano appena chiuderà la scuola, poi via Petrarca e tanti altri. Nel corso dell'estate saranno diverse decine di cantieri che partiranno. Inoltre il vice sindaco di Arezzo ha anche lanciato su Facebook un sondaggio. Gli aretini adesso sono chiamati a dire la loro sui nuovi cartelli. Beh l'ho pubblicato un paio d'orette fa, sono arrivati diversi tantissimi commenti, tantissimi like, qualche centinaio, quindi vuol dire che sono stati apprezzati neanche un commento negativo per fortuna e quindi questo vuol dire che abbiamo azzeccato la comunicazione.